Buongiorno a tutti e benvenuti. Per chi non ha già visionato il video sulla presentazione del corso di studi, mi presento, sono Roberta Minazzi, docente di economia e gestione e marketing delle imprese turistiche presso il corso di studi in scienze del turismo a Como. Questo secondo video ha l'obiettivo di presentare e di illustrare quindi i nostri programmi di internazionalizzazione. È un momento un po' particolare per parlare di internazionalizzazione, siamo tutti a casa, viaggiare è diventato molto complicato, è quasi impossibile anche al di fuori del proprio comune, però questo è un momento di crisi, sicuramente in modo graduale vi sarà una ripresa, si cambierà modo di viaggiare, ci saranno nuove procedure, ma sicuramente la crisi passerà e voi avete un vantaggio, non avete ancora scelto il percorso universitario, avrete tempo per studiare quali saranno le vostre future esperienze. Tenete conto che di solito le esperienze internazionali si effettuano al secondo o terzo anno, quindi avrete tutto un anno per ambientarvi in università, per capire quale sarà l'esperienza migliore per voi e per poi poter partire. Perché è così importante svolgere un'esperienza all'estero, per un semestre o per anche più di un semestre, soprattutto per chi studia scienze del turismo, studiare all'estero è importante, si entra in contatto con culture diverse e se voi pensate è quello che dovrete fare dopo la laurea, chi lavora nel turismo entra in contatto continuamente con culture diverse, turisti, visitatori, ma anche colleghi, molte imprese sono imprese internazionali, grandi catene alberghiere, imprese cruceristiche, tour operator che sono diffuse in tutto il mondo e quindi riuscire a entrare in contatto e a collaborare con persone di diverse culture è sicuramente un punto di forza che vi permette di differenziare il vostro profilo e di quindi trovare anche più facilmente lavoro in futuro. Partiamo quindi da quali sono i principali programmi internazionali offerti dal corso di studi in scienze del turismo. Abbiamo vari programmi di studio e un programma di tirocinio e quindi che vuol dire lavorare più che studiare che si può svolgere sia durante che dopo gli studi. Partiamo dal primo programma che credo tutti conosciate Erasmus Plus Studio, molte università quasi tutte svolgono questi tipi di progetti internazionali dove lo studente può studiare, in genere un semestre, ma può anche essere prolungato e raddoppiato fino a un anno intero, nei principali paesi europei. Un secondo programma sviluppato dal nostro corso di studi è il programma Niagara University, in questo caso è un programma con un'università americana che si trova nello stato di New York. I nostri studenti partono per il primo semestre del terzo anno in seguito a una selezione, a un bando, che offre sette borse in base al merito. Un terzo programma internazionale è in questo caso un workshop, un workshop alle Maldive, dove per una settimana gli studenti approfondiranno la tematica del turismo sostenibile e dovranno sviluppare un progetto di approfondimento insieme a un centro di ricerca. La tematica del turismo sostenibile tra l'altro è molto importante perché soprattutto in questo momento, se si pensa alla ripartenza del turismo nella fase 2, quindi nella fase graduale di ripartenza delle imprese, il turismo cambierà. Il turismo cambierà, lo dicono un po' tutti, se leggete anche i giornali, leggete qualche articolo specializzato, vedete che si parla molto di mobilità dolce, di turismo responsabile, sostenibile e quindi un focus su questo tipo di turismo può aiutare sicuramente lo studente a specializzarsi in determinati temi. Un ultimo programma, come vi dicevo, è Erasmus Plan Plus Trainship. In questo caso si tratta di un'esperienza lavorativa che può essere svolta all'estero, nei principali paesi europei, sia durante il percorso di studi e sia dopo la laurea, quindi entro un anno dalla laurea. Partiamo ora ad approfondire un po' di più questi quattro programmi internazionali. Il primo dicevamo Erasmus Plus Studio. Ogni anno l'ufficio relazioni internazionali pubblica un bando e sulla base dei risultati della graduatoria un certo numero di studenti può partire per l'estero. Il vantaggio della nostra università è sicuramente quello di permettere a tutti di partire. Difficilmente qualche studente ha dovuto rimanere a casa che aveva fatto domanda per poter partire per Erasmus. Proseguiamo quindi vedendo quali sono le principali destinazioni disponibili. Abbiamo 14 destinazioni disponibili e quelle più gettonate, diciamo così, sono Spagna, Portogallo e anche i paesi scandinavi, dove spesso esistono percorsi di studio in inglese e quindi si parla anche molto in questi paesi in lingua inglese. Altre informazioni riguardano il periodo in cui partire. Il 43% parte al secondo anno, il 57% al terzo. Di solito si svolge un intero semestre o addirittura si può prolungare di vari mesi fino ad arrivare all'anno intero. Tenete conto che Erasmus non è l'unico programma a cui si può partecipare, quindi conosco studenti che hanno organizzato molto bene il proprio percorso, effettuando al secondo anno magari una esperienza Erasmus e poi al terzo partecipando al programma Niagara University. In questo modo hanno effettuato nel percorso di studi ben due esperienze all'estero. Il programma Niagara University è in realtà un programma di scambio. Cosa significa? Significa che i nostri studenti italiani partono per gli Stati Uniti e svolgono un intero semestre del primo e del terzo anno presso il college americano. Mentre gli studenti americani, che hanno già conosciuto i nostri studenti italiani durante il semestre, vengono in Italia durante il periodo estivo da maggio e lavorano presso le strutture alberghiere del lago di Como. Quindi è un programma di scambio studenti. Il college è un college molto ben posizionato nel ranking internazionale a vari degree, fra cui hotel restaurant management, tourism and recreation management e sport management. È posizionato bene perché è stato selezionato come uno dei leading hotel school of the world, una fra le scuole migliori che tratta hospitality a livello internazionale. Sicuramente è anche un'ottima location. Il college è prima di tutto simile all'università dell'Insubria. Perché questo? Perché si tratta di un college un po' più piccolo rispetto ai campus americani, molto ben posizionato dal punto di vista del rapporto docenti-studenti. Cioè il focus è sul creare un rapporto molto stretto docenti-studenti e chiaramente si trova anche in una ottima location turistica, come nel caso dell'università degli studi dell'Insubria, in particolare del corso di studi in scienze del turismo. Perché quindi fare un'esperienza del genere in una location molto bella, come vicino alle cascate del Niagara, a nord dello stato di New York, al col fine col Canada, dove si possono visitare anche altre città come Buffalo e sicuramente fare esperienze anche di vita oltre che a di studio. Sicuramente questi progetti arricchiscono il proprio percorso di studi. Come vi dicevo all'inizio, permettono di aprire la mente, di entrare in contatto con varie culture. Non ho mai conosciuto qualcuno, qualche studente che tornasse con problemi di lingua, rendono la lingua inglese molto fluent e quindi permettono di migliorare l'inglese. In più, nonostante il preconcetto talvolta che esiste fra gli studenti, se vado a fare un percorso di studi all'estero rimango indietro con gli esami e vado fuori corso. Non è così. All'estero si possono frequentare i corsi e anche fare gli esami e quindi non si rimane indietro nel caso specifico della Niagara University si possono frequentare e superare quattro esami. Il terzo progetto è il workshop alle Maldive coordinato dalla nostra docente di geografia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca e con il Marine Research and High Education Center. Cosa fanno gli studenti? Stanno presso il centro di ricerca per una settimana, fanno lezioni teoriche, quindi la mattina è dedicata o comunque un momento della giornata è dedicato alle lezioni teoriche e poi azioni sul campo per sviluppare un progetto di ricerca. Ma di cosa si tratta in particolare? Si tratta di comprendere come è possibile sviluppare un turismo sostenibile in ambienti fragili, in ecosistemi fragili e anche un aspetto interessante è come sia possibile coniugare turismo responsabile e sostenibile e turismo di lusso. Tutti noi sappiamo che le Maldive sono molto conosciute per i grandi e bei villaggi del lusso. I ragazzi non stanno nel villaggio di lusso purtroppo ma lo visitano e quindi hanno la possibilità di intervistare i manager di questi bellissimi villaggi e capire come sviluppano delle tecniche e delle strategie volte allo sviluppo sostenibile dell'area. Quindi lezioni teoriche, lavoro sul campo e i ragazzi devono proprio elaborare un rapporto di ricerca alla fine di questo percorso. Molti al ritorno a casa poi chiedono magari la tesi a un docente dell'università, quindi docente interno all'università, mi è capitato personalmente di seguire vari studenti proprio su una tesi legata alla loro esperienza durante il workshop alle Maldive. L'ultimo programma è Erasmus Plus Trainship, dicevamo che questo riguarda più l'attività di tirocini o non di studio che può essere svolto durante il percorso di studi oppure al termine degli studi fino a un anno dalla laurea. È importante perché permette da un lato appunto di entrare anche, applicare la teoria alla pratica, il contatto può essere un contatto personale dello studente che magari ha sviluppato durante il proprio percorso di studio Erasmus, quindi Plus studio e vuole continuare magari con un altro programma non più di studio ma di lavoro in questo caso. Se il contatto diretto non c'è, lo studente può far riferimento alle offerte presenti sul sito europeo dei tirocini. Ho quindi con questo tema terminato la carrellata sui nostri programmi internazionali. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a approfondire questi temi durante i nostri momenti di scambio che avremo dopo questa giornata di Open Day, quindi abbiamo organizzato nelle prossime due settimane due incontri in cui potremo confrontarci direttamente, in diretta, quindi con un gruppo di docenti dell'Università dell'Insubra e del nostro corso di studi e anche con degli studenti che possono rispondere alle vostre domande. Vi invito quindi e aspetto di vedervi a questi nostri incontri di approfondimento live. A presto, grazie.